Grazie a tutti. La forma non è al massimo, però mi sono messo a disposizione, ho dato tutto quello che potete dare fino a quando ci ho avuto. In due situazioni in cui faciti il buono o quello efficace non le avrebbe sbagliato, vero? Probabilmente avrei sbagliato comunque, non lo so, magari con un po' più di lucidità, un po' più di gamba avrei potuto far meglio, non lo so. Però sono contento per come ero fisicamente, dopo un periodo un po' così che era più di un mese che tra la capiglia e il quadricipile non sono riuscito ad allenarmi con il gruppo con continuità. C'è stato in tutti i tuoi uno studio di rimarza, sapevate che oggi non potevate sbagliare, vero? Sì, abbiamo dato tutto, come è giusto che sia. Volevamo assolutamente questa vittoria in tutti i modi, quindi è importante che sia venuta su un calcio d'angolo oppure su una bella azione. Quello passava un po' in secondo piano, ma l'importante era portare i tre punti a casa. Grazie a tutti.